Ha aperto il suo sesto punto vendita e ha raggiunto l'importante traguardo di farlo a Perugia, la famiglia Bussolini, che ha inaugurato un supermercato nel popoloso e frequentato quartiere di Madonna Alta. Un'apertura per l'azienda a conduzione familiare attiva nel territorio dal 1948, condivisa anche con i dipendenti, che sono circa 60, di cui 16, impiegati nel nuovo negozio di circa 780 metri quadrati di superficie commerciale. È un progetto che da diversi anni abbiamo coltivato e oggi abbiamo tirato le somme. Siamo contenti perché comunque la cittadinanza ha risposto e anche nei giorni passati c'era curiosità in questo punto vendita che noi abbiamo completamente rinnovato, abbiamo creato dei servizi nuovi come il bar, come il ristorante per poter mangiare dei pasti veloci, tutta produzione nostra e poi dopo dove siamo forti sul servizio, su quanto riguarda i formaggi, salumi, le carni sempre selezionate, tutta roba italiana, cerchiamo di lavorare, fresca, con un bellissimo take away, tutta pronta quindi per non far aspettare il cliente, uno staff giovane che abbiamo comunque selezionato in questi giorni passati recuperando anche qualcuno che purtroppo non aveva lavoro o l'aveva perso. Io sono contento perché sia il padre che era un grande uomo commerciale e ha creato qualcosa in più nella zona di Mugnano poi i figli hanno cominciato a dire ma forse mi è stretto Mugnano, poi si è incominciato a allargare di volta in volta aperto due anni fa l'ultimo Mantignano, ne ha aperti diversi e però mi ha sempre detto voglio arrivare a Perugia. E' molto importante per noi come amministrazione qualificare e dare vita a questi che sono considerati negozi di vicinato che sono negozi di servizio per i quartieri, un quartiere come Madonna Alta, un quartiere popoloso, importante per cui credo che i cittadini di Madonna Alta accolgono ben volentieri questo punto vendita. E' un riscontro importante per il lavoro istituzionale che noi abbiamo fatto, per l'adeguamento della legge regionale sul commercio che prevede questi negozi di quartiere. E' questa risposta che un'azienda familiare come Bossolini ha dato con diversi insediamenti nell'area del Perugino penso che sia una risposta che il mercato accoglie positivamente. E' un'apertura molto desiderata da me, mio fratello e tutta la famiglia proprio per accedere alla città, alle porte della città. E diciamo ritrovare anche i nostri vecchi vecchi clienti e vecchi vicini di casa perché molte persone che abitano qui nella zona sono originarie di Montebuone, zone limitrofe. Proviamo a restare la famiglia Bossolini che eravamo 60 anni fa, perché Bossolini 60 anni fa c'era. Grazie a tutti.